Nooo, no, mi dissocio! Mi dissocio! Mi dissocio! E vediamo cos'è, eh! E non lo so neanche io! Open impact in live! Vediamo che cos'è! Beh, 21 euro! Ben speso! So soldi, eh! E so soldi, 21 euro! Cosa può essere per 21 euro? Ah, però! Ah, però! Cos'è, una bevanda! Massaggio! Lucrificante! Ma ci sono quello dentro? No, no, ce ne sono sei! E anche preservativi! Belli! Grazie, Lupo! Sono sempre utili! Le hai presi small! Ultra small! Non lo so! Potremmo assaggiarlo, Lucrificante! Non funziona! Per quanto, però! Eh no, questo si mangia! Si beve! Questo qua lo puoi pappare! Questo te lo puoi pappare! Io ci puoi mettere sulla pasta! Un po' di olio! Volevo ad assaggiare? No! No! È buono! Non col! Vabbè, si può bere! L'amico del gabrone! Sì! Il gabrone! E io lo provo! E loro vediamo, si indovinano che gusto è! È buono! È sembra limone! È buono! È buono! È buono! No, non ve lo dire così! Perché sennò... È buonissimo! È buonissimo! Fidati! Sembra... Sembra sorbetto a limone! No, no, io esco! Sorbetto a limone però... Mi dispiace, io esco! Non è caldo! Al limone? No! Devo proprio farlo! È buono! Fidati! Tutto, tutto! Sembra davvero sorbetto a limone! No, in effetti, minchia, gelatina! È buono! Bloody, pappatelo! No, dai! Uuuuuh! No, dai! No, dai! No, è buono! È buono! Ragazzi, questo qua! Sì, sembra una botta in più, va bene! Sulla figa è ancora più buono! E certo! Giusto, giusto! Certo! Cioè, lo mettete lì a litri... Poi, in effetti, quanto l'avresti comunque assaggiato? Cioè, te lo metti proprio... Aaaaah! Così! Non è andata bene che non vi ha chiesto il lato picco! Quello non ho letto! Quello non ho letto! Ma no, ma è buono! È buono! Ragazzi! Non mi fanno da sponsor! Però è buono! Anche voi volete farlo in live, volete? No, però effettivamente lo farei da sponsor! Cioè, se mi mettete lì con una figa finta, io... Aaaaah! Me lo letto tutto! Diffidate da chi se la fa leccare solo con il gel! Vuole camuffare l'odore di pescareccio! Aaaaaah! Aaaaaah! Duncol, pensa che bello stanotte! Te lo spalmi sul pipolo! Poi ti smanetti a sangue! Aaaaaah! E alla fine ti lecchi le dita! Aaaaaah! 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 No, perché me l'hanno regalato da casa! Mi hanno regalato preservativi! Fate amore sicuro ragazzi! E poi mi hanno regalato questo che io non l'ho mai usato! Non so cos'è! Aaaaaah! Io l'ho assaggiato e buono! Aaaaaah! Aaaaaah! Massaggio e lubrifico! Cioè... Vabbè ma è commestibile! Non si mangia! Non si mangia! Che cazzo! No! Si mangia! Ma come si mangia! Non si mangia! Non si mangia! Non si mangia! Non si mangia! E si perché questo qua si mangia! Baci la ragazza sotto e comunque se c'è questa cosa qua te lo paffi! La signorina è esperta! Ma è mangiabile! Eh no guarda che buono! Che t'hanno scritto così! No ragazze! La signorina è esperta! E' buono! Io lo assaggio di nuovo! Lo vuoi assaggiare! E' buonissimo! No ma fila! Sa di... Voglio adorare! No no ma non penso si passa a fare! Si ricordi di... Tipo gelato al limone! Un sorbetto! Ma dici se si ricorda di noi! Si ricordi di noi! Della sera di... No! No! E' buono! Vuoi assaggiare? Luciano ma... Lo vuoi assaggiare? No! Non mi va! No! No! Limone! Sembra sorbetto! Che cazzo sei tu! E non lo so! Ma raga ma nessuno lo mangia! Chekmiko! No! Noh però scusateno! Ma aspetta se io... Ma che senso nessuno? Si ha detto... Ma non si mangia! Ma se io metto questo qua sulla mia signorina... E la bacio sotto, c'è anche questo me lo pappo Sì, basta che non fai Ah, vedi che ci spoglio In questo senso, come ragazzi, non è che c'è Allora, voi ragazzi, l'avete mai assaggiato? Assaggiato? No, l'avete mai usato voi, dico Un dito, un dito solo Sì, però, è vero Però, ha mangiato? Aspen, non è andato, non è andato Raga, ma mangiate No, lascia la goccia intera, vai, lei mangia Ma che mangia? E' la soppappata No, no, ma è da pappare Come l'hai ricevuto? Ma chi è che te l'ha regalato? Il DJ Lupo, il DJ Lupo, un mio amico della chat Però, ragazzi, nessuno di voi l'ha usato No, sì, io l'ho usato, però non questo gusto Ah, ok A me era tipo bianco A me era bianco Allora, aspetta, voi siete più in grado di dirmi Cioè, per cosa l'avete usato? Che caccio sei? Cioè, per un massaggio al corpo? Eh, no, ma... Ma è il sesso normale, si parla di queste cose No, no, sicuro Cioè, ve l'hanno messo sulla patata O da dietro Cioè, allora, ragazzi, ditemi se voi Voi siete ancora piccoli, però Se voi avete mai utilizzato questo gel lubrificante E neanche io Allora, però, un esperimento, ragazzi, però Allora, mi dovete dire che sapore ha Lo dovete assaggiare No, te la faccio io, faccio io L'ho assaggiato? Io l'ho già assaggiato del buono Aspetta, da me, si può assaggiare? È tipo... Tipo... Sembra un soluto... Saluta la chat, gran po' però Saluta la chat, un saluto la chat Saluta la chat No, un saluto la chat Un sorbetto Gli lo mandano? È buono, è buono Infatti, l'ho detto che è buono È buono, ragazzi Se no, me lo metto domani sul salato Buono, buono Buona quanta roba Sì, ma ha regalato i preservativi E la... La sicurezza prima di tutto Esatto Trombate in maniera sicura Soprattutto trombate Perché... Bravo, Duncan Quante ci sono? Sono 500 Sono tutti al K Sì, sì No, fatti di meno di MD Zero cocaina Solo Ketal Allora, no, cadetto E... No, no, mi... Mi dissocio No, passavo Non drogatevi Invece no Volavo una droga particolare No, mi dissocio La caccia di identità non venisce Sì, comunque i capelli sono lunghi e basta Ce l'hai rasato sotto E io ce li avevo così da giovane Sì Non vorrei tirartela C'è l'inizio, se no Che stai? Oh, 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 oh Volevo avvisare il Cino Recoba Che sta sporcando il vetro lavato Dal fratello di Duncan Sì, perché ti eri appoggiato con la mano Ma non c'è Te lo scuso Non c'è un problema Ma ho visto un po' di... 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 Un po' di... Hai visto? Di... Di... Di Dread Ah, della Live Ti seguo Pian piano si sta formando anche lo toghe, ti protegge tutto Sì, no, ma stiamo andando bene Sì, metti a parlare di droga con gli utenti Me l'ha regalato Ah, eh? Me l'ha regalato DJ Lupo Ragazzi, voi l'avete mai provato? La porco... No Ah, un po' cos'è gel Sì, questo qua C'è il capello Questo lo che era un dito Io non ho mai usato Non ho mai usato La cazzata La cazzata No, no, mi dissocio Mi dissocio Madonna di Dio Ehi, ragazzi Vi dico solo Che a me è stato dato del razzista Comunque queste parole Quanti sono collegati adesso a cavallo? Una cosa doveva dire Non doveva dire Una cosa non doveva dire Una 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 Io arrivo dall'Asia Quindi sono un cagariso Però lui una cosa non doveva dire Perché mi ha No, noi da domani ti ammettiamo di 10.000 foto Guarda No, ma mi banno nel canale No, 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 aspetta Adesso che siete Aspetta che vado Comunque questa settimana Mangeremo assieme Sì Sì, sì In diretta Ok Moriremo qua Ma cos'è che mi fa mangiare? La pizza? No, ti fa... La bamba No, ti faccio... Passo qua prima Poi vado a prendere No, andiamo qua Sì, sì, sì Certo Questo mi fa mangiare la bamba Così ti rovina Ma non so... E due Stiamo parlando No, portalo fuori Guarda che già... Ciao Però vieni che con lui sono metà di 2.000 Sì Sì, 2.000 No, in serio No, vieni, vieni Tanto la settimana inizia a 7.30 Mi scrivi Dai Ok, veniamo Rosicuni Noci Ciao, ragazzi Ma sembrava finita la live Era tutto tranquillo Poi mi dicono Cosa fai nelle live Bannato nel giro di due frasi Record del mondo